Iniziano a dire che Non ci devono essere Non ci devono essere Dei criteri per anche Implegare qualcuno o meno Nella ristorazione Nei concorsi di bellezza E tutto perché si sentono frustrati Allora ho deciso di esserlo Cioè Voglio dire Ci ho capito un cazzo signori veramente Non ho capito sulla cosa dei grassi Sarò che non sono stato attento io Però volevo dire Mi può ampliare questo suo pensiero Per quanto riguarda le persone grasse Non so se lei se ne ha accorta Ma rompere i coglioni Volevo arrivare qua Volevo arrivare qua Sono circondata da grassi Sul limite dell'obesità Però ci sono ragazzi che stanno lavorando E che non rompono i coglioni a nessuno Sul fatto che sono grassi A me rompono Trovo ingiusto che invece delle donne Grasse, brutte, che non fanno un cazzo Nella mattina o la sera Iniziano a disquisire Su criteri di bellezza Dei concorsi Dell'assunzione del lavoro Nei ristoranti In posti dove invece la bellezza conta Perché essenzialmente Non hanno voglia di fare un piffero E devono imporsi così Nella loro vita Nel loro modo di essere Di non fare niente Di essere brutte Vabbè ma la bellezza comunque penso sia una cosa soggettiva No è una cosa ultra oggettiva la bellezza Sono dei canoni Anche nell'arte classica Sto scoprendo un altro mondo Ma per carità Anche nei concorsi di bellezza Ci sono dei canoni Però immagino che Rubino parlasse Dei gusti delle persone Che cambiano E chiunque può piacere a qualcun altro Insomma Non è bello ciò che è bello È bello ciò che piace Sto felice però Se ti piace C'è grasso Brutto Massa grazie signore Poi E così Bene Non rompere i coglioni A chi invece considera La bellezza una cosa oggettiva La bellezza Tu ti consideri oggettivamente bella? Sì Secondo quali canoni? Vabbè Guardatemi Secondo la venere del Botticelli Non l'assomiglia un po' No io sono curioso di sapere Eppure la venere del Botticelli Non è magra Non è Secondo i canoni Della moda di adesso Sarebbe fuori Io la trovo bellissima Devo dire Infatti Cioè Alzate le mani Chi mi trova brutta? Eppure non sono maglissima Neanche io Anzi ho preso diversi chili Negli ultimi anni No E Come la sta vivendo Questa per lei Deve essere una sconfitta Personale No vabbè Ma Perché prima ero secca Cioè ora sono Normale Sono un ormopeso E mi tengo in forma E se continuassi a ingrassare E mi piace anche No mi piace rimanere così No non continuo a ingrassare Comunque ci sto attenta E anzi mi mantengo così Perché ho anche più forme di prima Quindi Ok Quindi sei soddisfato Vabbè ci sta Ci sta Ad esempio Quali sono i canoni Per stabilire Una bellezza maschile Vabbè Vabbè Conta più quanto è il portafoglio Che non è il portafoglio di un uomo Che non l'uomo stesso Nella maggior parte Dei criteri Della Della maggior parte Di donne Insomma Fanno qualcosa E io sono brutto un culo Sono ciccione E sono povero E quindi Faccio un play Però è ambizione Hai successo Sei qua Quindi Probabilmente Hai più chance Di una persona magra Io le smonto anche questo Rubino è il nostro dipendente Sì è un dipendente Qualcun cazzo Allora Vai a correre Rubino Vai a correre Rubino Comincia Tira più Un pelo di fica Che un carro di guai Io Col mio stipendio Le prendo un tavolo Che manco Briatore Manco Briatore Mi prendo tutto E Briatore E grasso Insomma O poi Si è demagrito pure lui Dipendente Stai caldo Scusate Scusate Stai caldo Rubino Anche meno Rubino Con calma Insomma È sempre un ospite Rispettiamola Anche se le sue opinioni Sono abberranti Stiamo tranquilli Però siamo curiosi Il tuo uomo ideale A parte i portafogli Ma no Ho detto questo Il mio uomo ideale Può anche essere povero in canna Ma avere grandi ambizioni Ah Dì come me Ho grandi ambizioni Ti prego Ci stiamo pentendo Di averti invitato Vedete C'è una certezza Qua tutti ci proverebbero con me Tutti ci proverebbero con me Ma io no francamente Io nemmeno Sono sincero Signorina Io Vabbè Rubino Sono invidia Ma come Rubino Stai rosicata Sì sto rosicata Ammettilo Stai rosicata Vabbè Diventerà padre C'è altro per la testa Penso A prescindere la mia condizione Dico Siamo conosciuti oggi A vista Congrazioni Grazie Grazie mille Tu Gianlu Che ho veduto Che stai evitando la risposta Ma Qual era la domanda Tu ci proveresti con Alessandra No Vabbè No Diciamo Io 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 Diciamo che Ormai usare il condizionale È inutile No No Io Come posso dire Mi senti in difficoltà No Mi sento privo Di ogni alibido Ma non per lei Proprio In generale Sei primo di libido Non sento nulla Attenzione La grassezza fa questo La grassezza fa questo No C'è un po' di shaming Grazie Signor No Ma guardi Quanta impressione Io sono grasso dal Dal collo in su È un falso grasso Io sono un falso grasso Se le senti Io ho gli addominali Però anche i falsi grasso Io invece sono originale Ah se lo sento Quindi vuoi che io senta No Io vestito Vestito sembro grasso In realtà sono molto robusto Tentronco Qualcun altro direbbe Le ossa grosse Però non è vero Vabbè ma quella è la scusa di tutti Sì Perché c'è le ossa grosse No Perché ti piace mangiare Chiudi il frigo Mettegli il lucchetto C'ho la mia panza Però insomma Mi considero abbastanza Un toro Ora giocheremo al gioco Cosa ne pensa del personaggio Ora lì apparirà un personaggio E tu ci devi dire A bruciapelo Cosa ne pensi Scusa Simo Quindi tu usciresti Ci proveresti Signorina Perché tu non ti sei espresso Che carina Vabbè sì Ma te pure se te fanno un bugar muro Ma che vuol dire No Dai prego Andiamo al prossimo Andiamo al prossimo Dovevo mentire No Dovevo di una cazzata No E allora Non sono pagato per dire cazzate Ma vaffanculo Veravate no Insomma Qua bisogna dire la verità Se chiamate me Certo Siamo scherzando Dal favore della verità Comunque Appariranno In 3, 2, 1 Prego Questa è foto Poco fresca Fresca Non ho un mouse Non ho un microfono Confinato Perché la foto Sarà selezionata Proprio Cioè Trattante Ah ma quindi Stai facendo Quello che tanto odiavi Un bombo glielo passi? No Perché ne pensa Della foto Ah della foto No ma anche Del personaggio Credo Ah del personaggio Ok Ma Cioè Alla fine Mi sta simpatico Tutto sommato Un po' una vittima Di tutto questo E non so perché Trova la lotta Contro Droghe Fumo Tutto Insomma Di ricreativo Così importante Per la sua campagna elettorale Mi fa tenerezza Come quando è andato A suonare al sitofo Dicendo Tu spacci Tenerezza Fa ridere È un grande showman Fa ridere È un influencer Sì Influencer Sta foto è di oggi È stupenda È di oggi Non ho ancora visto Un po' di similitudini Con Sgarbina Uno te le può anche trovare Volendo Ma sì A volte ci parlo al telefono Dovremmo Infatti dovremmo trovarci Vi siete mai incontrati? Sì Mi siamo incontrati Alla camera di commercio Allivorno Diversi anni fa Infatti Ci siamo scambiati i numeri E a volte parliamo Infatti Quando Per la prima volta Mi sono espressa Contro la sergente Le femministe E tutto Lui ha Dedicato Sgarbi Quotidiani Il mio personaggio E da lì Poi ci dobbiamo trovare Ma non è ancora successo Ah vedi Però c'è una similitudine Ma anche qua Sta facendo troppo show E troppe poche azioni Secondo me È un provocatore come lei Io sono curioso Ma io agisco Boh Nella mia realtà Penso di essere anche Più sovversiva Di Sgarbi Se avessi le possibilità Di Sgarbi L'hai già fatto cadere Roma Ecco In cosa ti vedi più sovversiva? L'ho avuto fuoco a Roma Mi sarei goduta Roma che brucia Sto suonando la setra Metaforicamente 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 Posso dire che questa foto È una citazione Alla statua Di Torino Presente anche In profondo rosso Ovvero questa Bella Sì mi ricordo la scena Vabbè non penso Sia semplicemente Spiaggiato Sopra un divano Però sì Sicuramente Nel film Dicono di stare a Roma Tra l'altro Sì è vero Ambientato a Roma Ma girato a Torino A Roma ma girato Non interamente Ma Le scene con tutte le ville Sono girate a Roma Sì anche il teatro No il teatro Credo sia Sì di Roma Sempre Però gli esterni Sono a Torino Comunque vabbè così Una cazzatina Diciamo Una cazzatina cinematografica Io sono curioso Di sapere invece Che cosa ne pensa Di Vittorio Feltri Che là vedo ancora Più cose in comune Sì sì Lui lo adoro Completamente Ho avuto la fortuna Di conoscerlo Proprio nella redazione Di Libero Abbiamo passato Un'oretta A chiacchierare Nel suo ufficio Si accendeva Una sigaretta Retro l'altra Mi raccontava Di Rana Fallaci Ai tempi Che andava da lui E parlava come me Infatti C'è stata Questa grande simpatia Sì È vero comunque Tu li sei definita Sobversiva No però Beh ha detto Vabbè Roma Di qua di là Ma che cos'è Che vorresti sobvertire Io odio C'è tutto quello Che sta succedendo Nel mondo Ma non è l'Italia Infatti C'è poco da lamentarti Sull'Italia Perché oggi Macron Ha stabilito In Francia Delle zone rossissime Per cui addirittura Il coprifuoco Inizierà alle 6 Dal 2 gennaio E tra l'altro C'è la Costa Azzurra Dove io vado Costantemente Non mi ritrovo In Costa Azzurra Perché appunto La situazione in Francia È così catastrofica E quindi sono qua Capito Ha rovinato Le future Le vacances Sullo yacht Il grosso problema È questa Quindi sovvertire Questo trend Sempre più di chiusura È mondiale È mondiale Quindi bisogna assolutamente Difendere La propria libertà personale Perché ce la stanno tagliando E allora Come ha detto Nicola Porro Una volta A Quarta Repubblica Ha fatto l'esempio Della rana Che la metti Nella pentola E inizia a riempire D'acqua volente La rana Si abitua pian piano E non riesce più a saltare fuori E alla fine È rilessata Ed è quello Che sta succedendo A tutti Tranne a qualcuno Che la pensa diversamente Io non mi faccio mettere I pedi in testa Ma ci sono altri Ho continuato a dire Durante tutto questo tempo I ristoratori Dovrebbero avere le palle Per rimanere aperti Tutti insieme Tutti insieme Si mettono d'accordo È impossibile Fare le multe a tutti Questa sarebbe Una bella dimostrazione Quindi andando contro la legge Lei sta dicendo Ma quale legge Ma tutto quello Che sta succedendo È illegittimo E l'ha anche detto Il tribunale di Roma Qualche giorno fa Che ha detto Che i dpcm Tutte queste cose qua Sono assolutamente illegittime Ma io infatti Oggi ero prontissima Sono venuta qua Con un'altra motivazione Lavorativa Prima ancora Di sapere Che venivo da voi Però Mi ero preparata a tutto Perché so che fanno Molta E raffica Ho detto vabbè Ma ero pronta A non pagarla A ricorrere Perché tutto è illegittimo Basta saperlo Leggerlo Io sono fila di un avvocato Quindi lo so benissimo Tu prima hai detto Che ogni volta Il coraggio Il coraggio Di rimanere aperti Di fare class action E difendere la propria libertà La Repubblica Italiana È una Repubblica Basata sul lavoro È il primo articolo Della Costituzione L'imitazione Gli spostamenti Anche il diritto stesso Alla salute La salute È anche quella mentale Stiamo minando La salute mentale Di un sacco Di persone Stanno parlando Di vaccinare Obbligatoriamente La gente Ma ci rendiamo conto Tu non ti vaccineresti? Ma mai Over my dead body Cioè E se mi dico Non prendere l'aero Piuttosto Faccio un crowdfunding Per un getto privato Dove tutti quelli Chiaramente C'è il rischio Tra qualche anno Magari avrò Una compagnia Certo Perché c'è il rischio Che magari Chi non ha affatto Il vaccino Non potrà Biascare Ma è assurdo Ci rendiamo conto E lo stiamo consentendo Ci sono comunque persone Che invece hanno le palle Di andare contro E mi sento in dovere Di parlare del mio amico Momi A Firenze Sì I programmi televisivi Che io non guardo Sebbene abbia fatto La televisione E sia stata la protagonista Di uno spezzone Unico nella storia Vorrei capire una cosa Alessandra Ma tu sei contro il vaccino Sei contro le misure O sei contro la retorica del virus Cioè pensi che esista il virus È tutta una stronzata Io non conosco E non conosco neanche nessuno Che conosce gente Che è morta di questo virus Quindi sei Diciamo Potresti Conosco un sacco di gente Potresti essere definita Negazionista del virus Pensi che esiste Sì ovviamente dicono Hanno inventato Hanno cognato il termine Negazionista Come una cosa negativa L'ismo è sempre negativo Ma allora Perché non hanno creato Una cosa Una cosa uguale e contraria Il pandemista Che è molto peggio Cioè Perché il pandemista È anche Con lui che mi ha partito Il cervello per covid Questo intendi Persona Sì Non ti faccio fare niente Non ti faccio andare al teatro Non ti faccio andare al cinema Sei uno stronzo Non puoi salire su un aereo Non puoi fare un cazzo Cioè proprio così Possiamo dire che Io voglio capire Quindi esiste o non esiste Questo coronavirus Ma esiste Sì Esiste sicuramente Conosco gente Che ha preso il coronavirus Non conosco nessuno Che è morto di coronavirus Cioè Meno male Quindi sono tutte balle No purtroppo Sono tutte balle Di morti C'è gente con altre patologie E quindi i vecchi I vecchi non hanno diritto Alla vita Anche lì adesso Apriamo un altro discorso Più etico mio Per cui Il discorso che smorsa questo È un altro Nel senso Magari ci stanno persone Anche giovani Quindi non mettiamo i vecchi Che magari potrebbero morire Di vecchiai Anche in quanto malati Di altro Che non sia coronavirus Prendiamo per esempio giovani Giovani che magari È malato Di altre patologie Che però Non è a rischio vita Con il coronavirus Muore Quello è un reale Morto da coronavirus Poi io ci sto anche Sul magari Il piccolo cavillo Di persone anziane Che magari erano malati Terminali Con una settimana Di vita Che sono state emesse Come morti di coronavirus E su questo piccolo cavillo Ho capito Ma mo' vi chiedo Conoscete qualcuno Di giovane Secondo Pare che tutti Siano Siano Comunque A rischio di questa cosa Voi conoscete qualcuno In prima persona Giovane Morto di coronavirus Secondo le stime Che ci dà il governo Dovrebbero tutti essere Cioè Pare che ci sia una pandemia La scienza non funziona Sull'esperienza personale Ho capito Ma io vi parlo di voi Ma vi parlo anche Sull'esperienza personale Con un sacco di altre gente E comunque sta negando la vita Sta facendo morire La gente di fame E questa è una cosa reale La gente che diventa povera E la povertà È molto peggio Della malattia Il discorso sulla gestione Della pandemia È un conto Ma se farti il vaccino Significherebbe Porre fine a questo stato Di semilibertà Te lo faresti? Io continuo a essere libera Anche adesso A me non me ne frega un cazzo Il vaccino non me lo faccio Ok Perché mi devono iniettare qualcosa Che mi cambia il mio RNA Anche mia madre diceva Ma io rischio di perdere il lavoro Perché fa l'insegnante Ho detto E perdilo Magari vedi tra tre anni Che va tutto bene Ma te non lo sai Se fra tre anni È andato realmente tutto bene o meno Magari tra dieci anni Ti si sviluppa un tumore Che non Che riesci potuto non prendere Io personalmente sono stufo Di come sta andando il mondo Sono stufo della mancanza Di libertà che avevamo prima È tutto Però sono arrivato al punto Di dire Basta Cioè aspetto Che finisca Se farmi il vaccino Significherà che finisce Me lo faccio Certo E però Succombia questa E ci credo pure nel vaccino L'ha detto anche Sgarbi È per questo che non vado a accordo con lui Perché qua Succombia questa logica Nazista Che non è mai esistito Se è stato imposto Un trattamento sanitario Obbligatorio Su della gente Completamente in salute Perché Voglio dire Ci sono tante malattie L'epatite Io dovevo andare all'isola De famosi Mi hanno fatto vaccinare Per l'epatite E poi tra l'altro Mi hanno annullato l'isola All'ultimo Vabbè ma scusa Ma non andavi in un'isola tropicale Eh vabbè Ma infatti lì me lo sono fatta Però comunque Mi sono fatto un vaccino Ma comunque l'epatite È l'epatite E anche lì È una cosa a cui ci ho pensato Certo Ma comunque Ho un vaccino ultratestato E l'ho fatto Però Ok Questa cosa qua Che arriva Arriva E tra l'altro Il vaccino era già pronto Perché ci vogliono Diversi mesi di test E guarda caso Ora è venuto distribuito È chiaro Che l'hanno stato prima In Cina Inoltre tutto Stiamo favorendo la Cina Vorrei capire una cosa Però Simone Scusami Ma prego Secondo te Quali potrebbero essere Gli effetti collaterali Del vaccino Dato che Ti vedo abbastanza ferrata Sull'argomento Perché tra l'altro Ho fatto lo scientifico Quindi Eh no appunto Pochetto di biologia La so Eh no appunto Non si sa Non si sa Sì Ok Alice Anche Ha fatto tutto Che da fa il giuolo Che da fa il giuolo La signorina Ha fatto tutto Un attimo ragazzi Che è importante Prego Il fatto è che Non si sa Solamente Vedi l'andamento In diversi anni Ma Per esempio Oggi Oggi Enzuccio Non so se lo conosci Ce l'abbiamo qui Tre link Enzuccio Ha fatto il vaccino Inizialmente sembrava No Omiodon Mi sta chiamando Omiodon Sembrava non percepire Sembrava non percepire Problemi In realtà poi ha avuto Delle Delle Contradi Un attimo Che vuole Omiodon Stiamo Omiodon Che sta chiamando Davide Ciao cucino Se mi potrebbe salutare Pierra D'Alessandra Non penso che stai guardando adesso Non penso che sappia commentare Su Twitch Ma lo vedrà domani Su Youtube Volevo salutare Li potete chiedere Se mi saluta Pierra Ti sente Ti sente Poi lo dico personalmente Si sentirà questa live E sarà molto felice Ti siete mancati un sacco Seriamente Un bacio ragazzi Mi sono servito Tutto De Sica Andrea Tutto De Sica Boldi Figurati Figurati Andrea Vattene a fanculo No no Ha parlato Ha parlato Il mascherato No no Comunque Andrea Io ti vengo Ora sentirò Gli altri cugini Ti vengo a trovare a Milano A breve Sembra una minaccia Ciao ragazzi Ciao 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 Andrelli Ciao Ciao Non so cos'è questo Status Eh Status Uguale 204 Allora Non so se lei conosce Induccio Lo lo conosce Non sono perso la risposta Peccato Adesso capirà Si è vaccinato oggi E ha già avuto Delle effette Ma ora vi faccio Un parallelismo Sul vaccino Per il papillomavirus No Io avevo 15 16 anni Quando hanno iniziato A fare questa Campagna Pubblicitaria Di massa Che tutte noi Ragazzine Del liceo Dovevamo Farci sto vaccino E avevo già 15-16 anni E per farlo Avrei dovuto spendere Tipo 900 euro In tre volte Quelle sotto 15 anni L'avrebbero avuto Gratis Io non l'ho fatto Ma un sacco di gente L'ha fatto Però Non l'aveva neanche testato La mia ginecologa Ha detto che E' un sacco di casi Di ragazze Che avevano perso capelli Avano avuto altri problemi Ho conosciuto Altre ragazze Poi nel tempo E hanno detto Io ce l'ho avuto Lo stesso Il papillomavirus Io ce l'ho pensato Con la mia testa Che pure All'epoca Vabbè Era ancora vergine Quindi E tra l'altro Pur di non farlo Dissi Guarda io Vuoi farmelo mamma Cioè Se pensi Se sei così convinta Di farlo Ti giuro Perdo la virginità domani Così Puoi spendere 900 euro E sai che fallisce Contrattutto Devi essere vergine Per fare sto vaccino qua Non ha senso Grave Gravissima la cosa E non ha assolutamente senso Perché il papillomavirus Protegge contro quattro ceppi E basta E sono migliaia I ceppi del papillomavirus E col tempo Ha avuto ragione C'è con un sacco di gente Che l'ha fatta Ha preso comunque Delle altre ceppi Altrettanto noiosi E poi Della cosa Della cosa più pericolosa Del papillomavirus Che è il tumore Al collo dell'utero Se fai Ogni anno Un normale pap test Lo vedi E insomma La chat Sta spammando Non è vero È una cavolata Non è vero Non è vero Io non posso parlare Perché non so un cazzo Non ho mai sentito parlare Di questa cosa Mai Di che cosa Di sta ceppa No vabbè Senti Andiamo avanti Ma se l'hai detto te Ma l'hai detto te prima Io È una cosa vergognosa Allora Qui abbiamo Un estratto da web Un articolo Che schifo Mariam Si tinge È una notizia di oggi Mariam Si tinge I peri delle ascelle di fucsia Ma piovono critiche Su tiktok Questa è una cosa Gravissima Ma può fare un'irritazione Poi giri Per strada Come i bug Mamma mia E poi dice che Per favore Sono sensibile Però la La canzone di Kendrick Lamar È bella Qua risponde alle critiche Come che schifo Kendrick Lamar Ma lei che sarebbe? Chi è? No era la canzone No Con lei Questa ragazza Eh mu Aspè Facciamola parlare Che qua risponde Una celeste orribile No 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 Mi distacco Mi discosto Penorista di genere Ma chi? Chi? Sta qua Con i peli Che schifo Su per favore Il terrorista di genere Lucio Fulci Il terrorista di genere L'ho coniato io In sacro maschio Allora Due argomenti Ci sono con peli E terroristi di genere Ok parliamo innanzitutto Dello schifo Che Viene tutto insieme Cioè le donne Il femminismo odierno Quello della quarta generazione Ok Di cui noi parliamo spesso Che è quello terrorista Nazista Che ha portato Maesterno in prigione Che ora morirà lì Insomma Ok E ha distrutto il cinema Tutta l'arte Perché tutto improvvisamente Dopo vent'anni Ah lui mi ha stuprata Intanto Intanto Si sono fatte fare un piacere E poi Si sono prostituiti Una seconda volta Per avere soldi In notorietà Mandando gli uomini A marcire in carcere Pagare multe Per mantenersi brutte Per mantenersi brutte Per poter continuare A fare terrorismo di genere Per gente come loro Che non ha fatto Assolutamente niente Non ha avuto l'arte Di fare nient'altro La capacità di fare nient'altro E quindi si devono Legittimare così Terrorizzando l'uomo Che stai parlando In particolare Delle donne Del femminismo Di quarta generazione Stai parlando Non ho capito Del Me Too Con Weinstein Beh in realtà Ci sono molte attrici Che hanno denunciato Questa cosa Rifiutando Weinstein Ai tempi Quindi non hanno ricevuto Favori da lui Eh Vabbè Loro sono quelle Che sono state oneste Ma lui si sa Che era un mostro Però Beh quindi hanno fatto bene A denunciarlo Beh c'è chi se ne è approfittata Per carità Però Chi ha saputo fare carriera L'ha fatta Meryl Streep Infatti Lo conoscevamo molto bene E quando l'hanno cercata Di mettere in mezzo Ho detto No ma io non sto in mezzo Io non so niente di tutto Solo Ho conosciuto Weinstein Ma Non mi distosero a questo Magari hanno ragione Ma mi distosero Cioè vi pare che non L'ha data Meryl Streep Dai su Però Siccome lei ha talento Continuato Non ha bisogno Di ricorrere a simili Asi Argento invece Che prima L'hai citata No per questo te lo chiedo Beh lei Poverina Guarda mi fa veramente pena In questo periodo Perché Dopo il suo uomo Si è suicidato Guarda caso Dopo è saltato fuori Il ragazzino Che era stato molestato Da lei Tutto lo si è ritorto contro Lei è morta anche la madre È stata citata Nel libro di Corona E Corona L'ha fatta veramente Ma che c'entra Che è tipo Un contrapasso Sì Sì Perché è lei Che ha iniziato È lei che ha iniziato Sto roba contro Weinstein E tutto lo si è rivoltato contro Non l'ha portato niente Alla fine Io penso che al netto È karma Karma Isabic Penso che Al netto di alcune critiche Assolutamente legittime Anmi tu Che anche io ho fatto nel tempo Ovvero persone che hanno Approfittato di questa situazione Comunque Il tutto si è servito Perché hanno stanato Una persona come Weinstein Che abusava Della sua posizione E non solo Ma 100.000 abusi in più È passato pure un bel È il messaggio Perché adesso persone Che magari Ma quale messaggio Ma ha fatto dei film Incredibili Weinstein Ma c'è No perché molte persone Hanno preso coraggio E molte che magari Usavano quel modo Ma era meglio Stava zitta E facevano continuare Il cinema A proliferare Che non a buttare lui In prigione Cioè perlomeno Lui faceva opere d'arte Cazzo potrisco un mostro Che fa opere d'arte E manda avanti Un concetto di bellezza Piuttosto che tre mignotte Che stanno a denunciare Un sistema A cui hanno Quindi tu lasceresti libero Un potenziale molestatore Perché produce bei film Certo Se ci sono stata io In primis Perché volevo essere In un suo film Ma che c'entra Ma non ha senso Cioè i film prodotti Da Weinstein Come quelli di Tarantino Ad esempio Rimangono capolavori Ma lui deve pagare Per quello che ha fatto Deve stare in galera Non puoi lasciarlo libero Ma loro ci sono state all'epoca Quindi potremmo fare Come tante altre ragazze Ma poi spune sia Dipende chi Dipende chi E vabbè Ma allora o tutte Come il discorso del ristorante Tutte che stavano Tutte non c'è stavano Ma non è vero Sono casi specifici Cosa se tu adesso C'è chi è stata più furba Dell'altro C'è chi le l'ha data meglio Se tu provi a molestare Rubino E Rubino non ci sta Poi provi a molestare me O provi ad approcciare me Io ci sto Aspetta però Lei sta parlando di ragazze Che comunque Hanno ricevuto delle avanze Le hanno accettate Hanno lavorato E poi lo hanno denunciato Ma questo è un problema Ma questo è un problema Di cui Questo problema L'abbiamo anche trattato Ma qua Qua è stata detta Un'altra cosa Cioè preferisco Lasciarlo in libertà Anche se ha molestato Perché ha fatto bei film No no Cazzordi Non lo rinchiudi dopo vent'anni Cioè loro sono state lì Capito E cazzo Se mi dici Se mi dici Dopo vent'anni Ah io ho subito Un trauma e tutto Cioè sei una Psicolabile Ancora di più Però aspetta Cioè mi vuoi dire Che la donna È così psicolabile Si è realmente pentita Oppure se lo sta facendo Ma dopo vent'anni Ma dai ma c'è gente Che gli danno vent'anni Dopo un omicidio E continuano a non pentirsi E continuano a non pentirsi Dopo un omicidio Una condanna di vent'anni E ci sono queste qua Che vent'anni dopo Che ci hanno anche guadagnato Non hanno avuto abbastanza talento Vanno a dire queste storie E queste cose Dai È proprio schifoso Secondo me Bisogna fare una distinzione Sicuramente ci sono persone Che hanno approfittato Di questa cosa Magari Ci sono state E successivamente Hanno deciso di sfruttarla Però Ci sono anche molte persone Che non sono state Con questa persona Con Weinstein E hanno deciso Di denunciarlo Perché lui abusava Della sua posizione Di produttore Ok Quindi c'era anche Una componente di plagio E ragazze Che sono state Diciamo Un po' Plagiate Con dei trucchetti Dati Dalla sua posizione E c'era anche Lo star system Che proteggeva Questo Weinstein Quindi era anche Molto difficile Andare contro Questa persona Capisci Vabbè Sì ma questo Non lo metto in dubbio Però è andata così E chi ha avuto talento Ha continuato a leggere Tra vent'anni È andata così Ma se dopo vent'anni Non è avuto successo Ha continuato a essere Una sfigata Che tu le l'ha Ma che c'entra È successo Con una scelta E basta E chiude il capitolo E chiude il capitolo Cioè generalmente Uno si deve fare Una ragione delle cose Dopo Dopo Cinque minuti Che l'ha fatta Cioè nel momento stesso Se no Sono psicolabile O sono una mignotta Della peggio categoria Però molte cose Che hanno in comune Le persone Che hanno subito Tale violenza E che non tutte Hanno subito il coraggio Di denunciare prima Quindi è anche Un discorso abbastanza Super immorale Insensato No ma non ce l'hanno avuto Perché generalmente Comunque se ne hanno fatto Una ragione Poi hanno visto Che era un carro Vincente in quel momento E allora si sono saltate sopra E adesso si prendono I soldi della fondazione Weinstein Come risarcimento Ma ci sono saltate sopra Dopo perché C'era gente più fallita Di loro Che è andata avanti Ma se no Non faceva niente L'avete capito Quel è il punto Al di là della sensibilità Individuale Del trauma Che può esserci stato O meno Se queste ragazze Se queste ragazze Hanno deciso Comunque di Dichiarare queste cose Perché sono state molestate Anche se loro Non hanno percepito Un trauma nel tempo Questa è stata una cosa Molto positiva Perché ha protetto Potenziali Ma quale positiva ragazzi Ma se io mi sto a dire Quante persone Con cui non volevo Quando ero letto Alla fine mi sono trovata Insomma Vorrei finire se è possibile Ma non è che poi di qua Ma io mi sono trovata costretta Cioè mi assumo Le responsabilità Di ciò che ho fatto Ok ma se uno Non è così semplice Ok Cioè quando Ti trovi in determinate situazioni Ok Ci può stare che Lì per lì Non hai neanche la percezione Di quello che Di quello che hai fatto Ok Poi quello che dico È al di là del trauma Personale di queste ragazze Che può esserci stato Come no Molte hanno Dichiarato queste cose Queste molestie Anche per proteggere Future donne Che invece Avrebbero potuto Contrare Diciamo Dei traumi Ma io voglio Voglio creare un'ipotelica Dove se conosco un regista Sul libro È di andarci a letto E se andarci a letto adesso È una scusione Si parla di molestia Adesso non è possibile Capito? Ok ma ammetti che tu Con questo regista Non ci vuoi andare Lui ci prova con te Ma te non vuoi Perché ti fa schifo Dici vabbè non me va Ma perché Questo non me va Non mi piace E questo insiste E tu ti senti Giustamente Violata Da un'insistenza Sarà successo Che uno insisteva Ti rompeva il cazzo No? Penso che sarà Veramente un contratto Da milioni di euro Su un film Che può veramente Svoltarmi la carriera Penso che me lo faccio piacere Quindi Ma se non c'è Questo contratto E ci prova È un filmetto del cazzo Questo ci prova comunque 200.000 euro E tu dici no Arrivederci Passano dieci anni È diventato Weinstein E escono delle donne Che Cioè Ti rilavoro Un'occasione Che hai perso E Ravolgo il tuo cuore In questa maniera Così meschina Tu veri delle donne Che dicono Questo regista Mi ha Mi ha molestato E tu fai cazzo Ma pure a me Mi tu Esatto Eh infatti È una cosa bella Magari non avevano il coraggio Di denunciare prima Scusate un attimo Guarda sto stronzo Che l'ha fatto Scusate un attimo Quindi la molestia Quindi la molestia Se è perpetrata Da un uomo ricco E potente Non vale Generalmente La donna È molto facile Diciamo Farsi eccitare Davvero Ma che cazzata è Ma che stai a dire Ma no Lo dico la donna Vabbè Buona Buona Sapersi No No Perché me lo facete Ma è una battuta Ma in che senso Non è una molestia Cioè E se è stata Come Einstein A volte Te capita Di darla Al primo cretino Che capita In un momento Che ne so E perlomeno Può essere Fatta una cosa giusta Cioè Ti penti Da donna Sono un sacco di persone Che ti penti Di aver incontrato Di averci scambiato liquidi Quindi Ma il discorso Non è tanto il pentimento Il discorso È che si basa Su una molestia Sei stata un idiota Che non hai preso L'opportunità all'epoca Non te la cercare 20 anni dopo Ma se non hai preso L'opportunità Perché lui T'ha proprio fatto schifo È questa la cosa Ma la signorina Ce l'ha Contro le persone Che hanno approfittato Di questa situazione Ho capito Ma io lo Quelle reali Vabbè Mi ho chiesto Un'altra cosa Infatti Però Perché io ascolto No ok Certo Io ho posto Un altro scenario Però vabbè Però andare avanti Così la donna È mignotta Punto No Ci risociamo Ci risociamo Io mi distacco Ma scusi signorina Ma non è meglio Andare avanti Magari Vabbè Che cosa intendi È una cosa Che pensi veramente O meglio La cosa che ho scritto Anche sul libro È proprio un pilastro Perché tutte le donne Sono prostitute Dalla nascita Cioè tutte le donne Cercano qualcosa Dall'uomo Dal padre Attenzione di più Che dalla madre E poi è sempre Uno scambio La donna Dalla sua femminilità Il suo essere La sua giovinezza È sempre in cambio È sempre in cambio Di qualcosa Hai anche degli studi Psicologici Alle spalle Vabbè È il famoso Complesso di elettro Poi io gli studi Che ho fatto Vabbè No per capire Ho studiato Un sacco di Da Freud Un sacco di psicologia Ho fatto Oltre alle mie lauree Però Freud È una cosa Di sensibilità Che ho visto Poi in quel momento Però su questo Ti devo dare ragione Perché Freud Sosteneva che Tutte le donne Sono mignotte Quindi sul tuo libro Cosa dici Oltre questo Cioè sulle donne Poi la famosa teoria Del senza mutante La donna deve respirare La propria femminilità Cioè Cioè Un discorso bello La femminilità Interessante Ricordarsi di essere donna Una provocazione Come ci si ricorda Di essere donna Da Chiambretti Senza È come Ho fatto i film di Virzi Senza Uno scambio sessuale Di nessun tipo Cioè sono arrivata Con i miei meriti Sì All'epoca con Virzi Cioè avevo 17 anni Con Chiambretti Addirittura con i miei studi Con tutto Virzi invece Proprio Rubai il ruolo Ok E E nulla Ci sono arrivata Con me stessa E poi ho giocato Il mio corpo Cioè Provando questa teoria Ma su me stessa Che teoria? Invece Quella della donna Senza mutande Libera La vera libertà femminile Spiegaci Quella è curioso La teoria della donna Senza mutande Libera Cioè che io dico Dico quello che penso E Penso che uomini e donne Sono diversi Complementari E penso che Mi tu sia una grande stronzata E penso che l'uomo Sia una vittima Ok E ho giocato sul mio corpo Sulla mia istruzione Sulla mia cultura E potevo fare l'attrice Subito dopo il ruolo Che ho avuto 17 anni Potevo andare Qua alla scuola cinematografica All'accademia Insomma E continuare questa carriera Ma sapevo i compromessi Quindi ho continuato a studiare Conoscendo le mie capacità E poi dopo mi sono rimuttata Comunque in questo ambito Con un libro Sono arrivata per altri Via Traverse Però ho giocato a quel punto Solo su me stessa E sulla mia cultura In che senso Via Traverse? Via Traverse Nel senso che ho fatto un libro Ma sono cose in cui credo Realmente Ma mi sono ritrovato Di nuovo nello showbiz E spero anche Di tornare a fare Film Tu prima hai detto Ho fatto delle rivisitazioni Dell'ultimo tango No 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 Compromessi No e appunto Compromessi Quali erano questi compromessi Io non sono mai scesa a compromessi Ho conosciuto Chiambretti Perché ho fatto sto libro E quando Iva Zanich mi ha provocata Su questa teoria mia Ma la benda di Londini? Iva Zanich Ah Iva Zanich Quella che gira la roda Quella della bambola Cioè io Ho mostrato il mio corpo Ho mostrato Quanto fossi fedele alla mia teoria Ma ho giocato su me stessa E la gente che mi criticava Le donne che erano lì Ad additarmi A dire che scrivo stronzate Mamma mia coscenità Magari sono lì Perché hanno un marito importante O perché l'hanno data A chissà quante scale Nella produzione prima di Chiambretti Questa è una cosa Che abbiamo sempre difeso Davide È una cosa Il diritto di poter Usare il proprio corpo Il diritto di usare il proprio corpo Non significa Quello che hai detto prima Sono cose ben diverse Un conto è parlare di molesti Quindi c'è un abuso No ma questo è un altro discorso Cioè se tu vuoi fare Tu vedi un obiettivo Ci sono soltanto fini E mezzi per raggiungerli Se no la farei veramente l'attrice Sa che ci sono questi compromessi Io Io sono la prima Che non sono voluta ascendere a questi Perché potevo farlo Esatto Questo compromesso però È sbagliato Accettarlo Ma questo compromesso È sbagliato Accettarlo È un compromesso ingiusto Sarà pure sbagliato Però il cinema è andato avanti così Per tantissimi anni Sì ma le cose si possono cambiare Altrimenti rimaniamo Ma cosa cambiamo adesso È bello Can Con i giudici Per la maggior parte donne Le quote rosa stessi Grazie di invalidità civile È bello questo Cioè c'è qualche opera bella prodotta oggi Era meglio quando le davano Per essere nei film In realtà E dovevano saperci stare E saperlo fare bene Prego Marra Che ne pensi questa critica cinematografica Che ci sono opere meravigliose anche oggi Il fatto che ci siano criticità Nello showbiz Nel mondo del cinema Perché c'è una certa retorica Chiamiamola nazifemminista Quello che vuoi Va bene se ne può discutere Ma cosa c'entra Con il discorso Si è sempre fatto così Quindi va bene Se è un qualcosa Che è svilente Per la donna Perché la donna È tale Soltanto se la dà Ok È una stronzata pazzesca Altrimenti con questa mentalità Rimaniamo Sapere quando darle È darla bene E se non va bene Se ne fai la ragione Magari puoi andare avanti Per il tuo talento Una persona Non deve necessariamente Se hai talento La dai bene È la prima fase Del provino Quindi l'unico vero talento L'unico vero talento Della donna Deve essere questo Non ho capito Per fare l'attrice L'unico vero talento Della donna Deve essere saperla dare bene Beh sì Ma quindi lei sta dicendo Che tutte le attrici L'hanno data Ma c'è posta oltre il danno Pure la beffa Perché immagina magari Quante la danno E poi se la prendono Pure in del culo Non hanno abbastanza talento Ma prendi due volte Quindi insomma Bisogna saperla dare bene Ma questa è un consiglio Anche per le nuove Insomma leve Consiglio abominevole Consiglio per le nuove Ma Radulano Tu non l'hai mai dato bene L'hai dato bene L'ho dato bene Me lo auguro Ma ero pienamente consapevole Comunque Alimentare la retorica Che la donna Può essere soltanto La sua vagina Ed arrivare a determinati Punti della sua carriera Però noi abbiamo difeso Maria De Filippi No? Ma quella è una scelta però Eh ma lei Sa parlare di se stessa No Cioè lei può scegliere Di andare a letto Con chi vuole Ma questo nessuno lo nega Allora di cosa stiamo parlando Scusa Perché mi sono perso Ma ha detto che la donna Deve continuare Questo tipo di meccanica No infatti Finché tu parli di te stessa Tu puoi fai il cazzo che vuoi Però tu parli per te stessa No io parlo in generale Perché comunque Quando c'è il buon senso È ovvio che è sempre giusto Sei una libera scelta Dell'essere umano Che Non è imposto No non fare l'attrice Non rompere i coglioni Non fare la moderna Non fare l'attrice Non può Ah ok Ma qua si parla sul Sul nazismo Sul Sulle femministe Naziste Le nazi femministe Ma che stai dicendo Ma il cinema Cioè Non c'entra nulla Con questa cosa qui Ma qua si parla Dei criteri Che poi Adesso dovrebbe Vedere tutti questi Qualsiasi tipo di persona Cioè nessuno Le può essere giudicato Per il proprio Ma non è un discorso Di giudizio Cioè Ma qua non volevo Arrivare a questo Cioè stavo Ha avuto uno sfogo lì però Sì secondo me Ha birra del 2008 Che è stato effetto È vero effettivamente Vabbè No ma Andiamo avanti Io mi sa che c'è Ivan Su Discord Che mi ha detto Che voleva Sì l'avevo visto in chat Gli ho anche scritto Su Whatsapp Che lo vedevo Vorrebbe dire la sua Ivan è un pelato Quindi ha fatto molti vaccini Aspetta No In teoria no Però Se deve andare in bagno È in fondo Prego prego Se vuole andare al bagno Prego 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 Signori Intanto noi Intanto noi chiamiamo Ivan Interroguiamo No Attenzione 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 Cos'è Paura Eh no Non si sa mai Simone non cambia inquadratura Ho avuto paura Simone Perdonami Non volevo inquadrarti Perfetto Riapriamo le cabbie ragazzi Ho letto commenti Tipo live imbarazzante Cose del genere Da quando qua Da quando qua Il cerbero viene Finito dall'ospite che porta Noi abbiamo portato sempre tutti Perché è la nostra filosofia Ma questo non significa Che siamo d'accordo Con le cose che dice l'ospite Ma lo stiamo largamente Dimostrando qua Quindi non trovo il connesso Tra questa e live imbarazzante Oggi siete penosi No infatti Angellone sta a far piedino Da mezz'ora ma Marra è semplicemente Un tic Noi stiamo facendo Esprimere l'ospite E poi Si dice le sue Cazzatine Ma penso sia ovvio Che Non siamo d'accordo Con nulla Mi sembra il minimo Però È difficile però Va a parlare Risponde Tipo una mitragliatrice Di strozzate No perché Comunque Lei va contro Il femminismo Più recente Contro il quale Andiamo contro Anche noi Ma che vuol dire Ma delle criticità No no appunto Bisogna andare un pochetto Più a fondo Per capire le motivazioni Ma questo non vuol dire Avallare certe affermazioni Certo Ripugnanti Però dobbiamo Dobbiamo lasciarle Fluire Esatto Non bisogna impedire Di parlare Guarda c'è Ivan Che ha detto Sta dicendo Una marea di cagate Se entro Mi Faccio bannare Devo sbollentare No Devo sbollire Ma va falle entrare Io ho detto Ah beh Non ce la faccia entrare Ivan entra dai Ivan entra Ivan Siamo curiosi Di sapere Quello che pensi Comunque ti invito A farlo con la Massima casa Esatto Al massimo Dici mili Non vogliamo che Manchi di rispetto Alla nostra ospite Anche se non siete D'accordo con lei E non vogliamo neanche Che tu ti faccia bannare Quindi insomma Tu come vi Questo status Aspetta a fare la foto Aspetta Aspetta Sto disfando tutti I commenti Greve Vabbè Penso che Non si è abituata Insomma Diciamo che Quando è un pensiero Distaccato Da quello che può essere Quello che comprende La maggior parte Non la massa Penso che sia una cosa scontata Che tu diceva Però sta qui Quanto c'è di vero Nelle tue parole C'è provocazione voluta Perché molti L'hanno scritto in chat Io ho letto anche molti Che magari hanno parlato Di te online Molti sostengono Che la tua È tipo una tattica Di andare contro corrente E creare scandalo Con le tue parole Per ricevere attenzione Infatti è La stessa teoria Che li ha portati A capire La motivazione Per la quale Sei finita in tv E in radio Tu come rispondi Mi state reputando Troppo intelligente Per poter Aver fatto Uno schema Di uno schema Così importante Io sono quella che sono Appunto E valuto la libertà La prima cosa Proprio un principio fondamentale Proprio dell'essere umano Ciò che ci ristingue dagli animali Di le opinioni Il pensare Il sentire Quindi sono E ragazzi Come state? Tutto bene? Fingere sarebbe troppo faticoso Ma con Quale accanto stai? Sinceramente ci guardano Troppo poco Simone Con Quale accanto stai? Quello che mi costa Ma chi è sto Arfonso? Stavo cercando io Ma era un fake Non lo so No Simone L'account qual è? L'account che stava Su Discord Io avevo Non entra Ivan Dai Ivan Su Vabbè sì Andiamo avanti Stavamo commentando La ragazza Che si è dipinta I peli della sceola Fuxia Volevamo un attimo Capire chi fosse Quello che aveva da dire Allora Sì perché Sì perché Partita la lingua E poi Riasci ci sono quelli Che addirittura Se li tingono Ci hanno usato a post Ma in voi siete pazze? Quanto fanno schifo Le persone con i peli Sotto la scella Che poi posso capire C'è due peletti Giochiamo a quelli Con il cespolo Ci hanno usato a post E poi riasci ci sono quelli Che addirittura Se li tingono Ci hanno usato a post Ma in voi siete pazze? È una battuta Si si sta facendo A me A me A un'ironia No ma io l'ho detta La mia sulle ragazze Simone nella live Con Delfina Che dava voce A quelli che stavano lì Che commentavano Però noi Non siamo come i Pirlas E come i Pippo L'abbiamo subito capito Certo Cosa ne pensiamo di questo? Lei che cosa ne pensa? Quello che ha detto la signorina Che dava voce alle critiche Ma io l'ho già detto Cosa ne pensano? Non so proprio A un massimo Una puraccia Faccio uscire un po' di stronzate No ma proprio dai Che fai da? Apro un attimo la finestra Per far uscire un po' di stronzate Ricircola Non ricircola Non bullizziamo L'ospiro Nostre Nostre Dai No proprio Perché altro C'è stato un tempo In cui Vabbè Le donne erano Tutti Vabbè Deriviamo dalle scimmie Però adesso Probabilmente Non lo so Probabilmente può anche essere giusto Che la donna Possa avere penuria Ma va bene che lo faccia Per status preso Nazifeminista Ecco Per partito preso Dici Per una libertà estetica Tipo io voglio portare il pelo Mi piace Vabbè Hanno dei grossi problemi Va bene Di pensare Come la loro libertà estetica Lo fanno più Perché hanno Perché sono generalmente Per la maggior parte Brutte di loro E Vogliono perlomeno Raccattare le simpatie Della gente Come loro Delle nazi femministe Degli sfigati E tutto E quindi Si fanno contro corrente Come scimmie Fanno cagare Tu lo sai Quello che dici Fa incazzare un sacco di persone Sì Ma Come mai Ma io dico Quello che è vero Cioè per me è così Punto Perché si incazzano Perché sono degli sfigati Perché non lavorano Perché la maggior parte della gente Infatti sta qua A assorbire Tutte le regole di idiote Che gli vengono Imposte A Perpetrare la loro povertà E se la prendono Con gente Che invece si dà da fare E ha una propria opinione Come me Che tra l'altro Sono Insomma piuttosto carino Figa Vabbè ma quello dovrebbe Annullare la rabbia Però invece si incazzano uguali Ah ma c'è ragione Però c'è Dico Seguitemi Cioè io faccio degli sforzi Una figa dovrebbe annullare la rabbia Ma qui la rabbia c'è Perché c'è assenza di figa Poi c'è In questo periodo Ah perché rosicano Bellissima Perché rosicano Che loro non Ah rosicano che no Ok Ok ho capito Sopo Particolare Che si ricollega Anche a quello che stavamo A di prima Che cosa ne pensa Del patriarcado Bello Sei racchiusa tutta Ma quindi esiste il patriarcado Cioè che esista Vabbè penso non ci siano Ma basta Che questa è una definizione Ecessiva Che hanno dato al ruolo Che c'è sempre stato Tra uomo e donna L'uomo dovrebbe Cioè da sempre Cacciare Avere il suo ruolo Fuori del mondo È neandertal Ma comunque cacciare È la metafora È la metafora Del lavorare Portare il cibo a casa Dari soldi Per fare la spesa Non fa la spesa Cucina E se le avanza il tempo Lavora e fa altre cose Però deve ricordarsi anche Di essere madre E molle Quindi deve mantenersi bella E deve sapere Di essere madre Cioè l'uomo è giusto Che vada a lavorare E lavori più della donna Mantenersi bella Per l'uomo Ma anche per te stessa Ma io se Mi farei schifo In primis a me E poi una volta Che fa schifo a te Fa schifo anche A tutto il resto del mondo Quindi l'uomo a lavorare Lei dice L'uomo a lavorare E la donna a cucinare A mantenersi bella A me Io se potessi veramente Soltanto cucinare E mantenere la mia bellezza Sarai la donna più felice del mondo Purtroppo qualcosa Mi tocca fare Inventarmi Però potresti benissimo farlo Però hai scelto di non farlo Ma no Come faccio a farlo Se gli uomini Adesso sono Sono vittime Di questo Di questo Nazismo Nazifeminismo E sono sempre meno uomini E si prendono sempre E li vedo sempre più incapaci Di prendersi con le nonna Come me Ma tu che sei così bella Però io posso ancora Sono ancora così Idalista romantica E anche realista Però da dire Comunque Io se trovo una persona Veramente valida Posso completamente adattare Tutte le mie routine Tutte le mie cose Perché mi sono creata Una cosa Che mi fa ad essere Quello che voglio Ma se tu Dalle tue parole Non sembri molto pro A sto patriarcato Ma io penso Scusami Cioè tu ti ci vedi Come donna a casa Che non lavora Cioè va completamente Contro quello che tu hai detto No lavoro Magari Mi sono creata un lavoro Per cui magari Faccio un film Mentre cusino Prima il mio marito Dove cusino Sexy Carina E spiego anche ricette E poi lui trova La cena pronta Che ne so Mi invento io Capito Però non mi dimentico mai Come donna In questa società patriarcale Dove abbiamo già Chiarificato Che tu sei così bella E piacente E tutti ti vogliono E ci provano con te Potresti trovare In tre secondi Uno facoltoso Che ti fa essere Sua moglie E non fai un cazzo Perché studi Infatti ce li ho Disseminati in quella Però adesso Con il covid Purtroppo Sono disseminati Tu ce l'hai qualcuno In testa Che dice Vabbè Se me va male Mi metto con quello Che tanto c'hai sordi Certo Non c'è qualcuno Ma non No mica io Sordi veri No 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 Io devo stare da solo E a me mi faccio ruoter Cule Preferisco che non c'è Nessuno in casa Lui Per come stanno andando Le cose Per come stanno andando Le cose Comunque sto Sono talmente oculata Sto vedendo Mentre altre cose Però non prendi in considerazione Che anche uno molto ricco Può essere un T-Rex Magari si mette con un tirchio Non voglio dire L'ambizione L'ambizione Parola d'ordine Ambizione Vabbè Non è una brutta parola Pensate a mia madre Che stronza Che va a lavorare da vent'anni Ma che c'entra Capito E no Secondo la sua teoria Mi madre Cioè Mi padre lavora Mi madre lavora Mi madre andò a lavorare Secondo la sua teoria Tua madre cosa? Che mia madre non dovrebbe lavorare Secondo le mie teorie Leggetevi il libro Sacro Maschi Secondo le mie teorie Nella Repubblica delle Donne Le donne fanno solo politica E gli uomini lavorano e basta Pensa che mia madre è molto bella Cioè Si Ti cura Anche se Anche la mia Anche la mia lavora Fa la professoressa Ma è una bellissima mamma Infatti per l'insegnante È un lavoro piuttosto femminile Cioè lei Non scrive dei G Mamma di Rubino Grazie No Rubino Mamma di Rubino Brava Complimenti Grazie Leggi i libri Ma che c'entra Cosa c'entra Leggi i libri Tu dimmi cosa c'entra Io vorrei fare una domanda tecnica Non ci siamo Vai vai Ma cosa c'entra Non ha senso Questo diciamo Personaggio Che hai sviluppato Nel corso degli anni Non è un personaggio Sono io Basta dire che è un personaggio Questo personaggio cinematografico Teatrale Quanti anni di studio Diciamo Quanti anni di studio Hai impiegato per costruirlo Pensate a quanti anni di studio Ci vorranno per studiarmi Sono stata veramente così intelligente Non ci ho provociato Non lo so È successo così Il troll mi sembra L'arma più vecchia del mondo In realtà È successo così La provocazione Mi sono ritrovata Sterile Innato Innato Non vedo perché uno dovrebbe fingere A dire certe cose Perché certe affermazioni Nanno rilevanza Lo sai mai chiedermi Quante informate mi prendo Cioè veramente Per stare nella mia pelle Cioè sarebbe folle Se fosse un personaggio Io credo più Che sia veritiera lei Un buonista Emo cristiano Non avrebbe avuto I spazi che ha avuto lei Comunque Possiamo metterla anche Su questo piano Dici che è tutta una tecnica E cerca di tagliarmi Potrebbe E cerca di tagliarmi ovunque Vedete Barbara D'Urstro Che mi ha chiamata da lei Io chiedo Mi tagliano ovunque Però comunque ci sono Perché comunque Io spero sia così Sebbene critichi Instagram Sebbene Ho anche il profilo privato Perché non me ne frega niente Non ho notorietà in questo senso Di subire offese e tutto Voglio gente adesso che Mi ami e mi capisca Comunque continuo ad andare Io non posso Perché devo prima Leggere un libro Quindi c'è gente che mi capisce Tu hai dei follower Non sono solo a questo mondo Fatevi sentire Dai Dai Tu hai Tu hai i tuoi follower Che la pensano come te Ti seguono Ok E progetti per il futuro Aumentare magari il tuo clout Politica Vabbè Ho fatto la canzone Mescalina L'avete sentita Mescalina Ho capito Ma te me parli di cambiamento E fai le canzoni No vabbè È una canzone piuttosto potente Tutto passa Tipo Give Peace A Chance Di John Lennon Tipo Give Peace A Chance Imagine Sì Tutte le canzoni A quei livelli Cioè Impegnata socialmente Sì Il testo ha comunque Una valenza Sociale Infatti Di cosa parla Anche se mi bannano In continuazione Insomma Non riesco a promuoverlo Come vorrei Comunque Ho dei seguiti Poi vediamo Vediamo Ora Quali sono i temi Della canzone Senza spoilerare Mescalina Ovviamente Mescalina È una cosa Allucinogena Vuol dire Sono tutti strafatti Di mescalina Adesso Vivono in questo trip Da incubo Succupi di un microbo Ok Devono coprire il volto Avete solo il tartotello Stolto Stolto Manco il virus Vi cattura Provate con l'eroina Pura E poi E poi si chiama E poi si chiama Messalina Da mescalina Messalina Salvaci col peccato Mostraci la via Questa la canta Lupi Negri Ok No mi dissocio Ma si chiama così Ce l'ascolteremo L'ascolteremo Non avevo capito Non si chiamava così Anzi ascoltate Le sue canzoni È simpaticissimo Lui è strabannato Per il nome Per i testi Guardateli Io alle 20.50 Devo stare da Rick Dufer Quindi Vi devo salutare Non so se Tornigliano nel tempo Alle 22.50 Alle 22.50 E non so se Voi volete continuare O se Siamo molto soddisfatti Di questa live Possiamo andare avanti Un altro po' Se Alessandra vuole Ok Devo sentire un po' Il mio amico Prego 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 Ma anche 10-15 minuti Però lo so Ditemi voi Io non ho fretta Va bene Va bene Va bene Come volete Per me va bene Per me va bene Io casomai Metto del qua Mi prendi un libro Leggete il mio libro Ora Comunque sono altri progetti Ti leggo Si leggete Ma stiamo ancora online Vero Sto anche facendo Altri libri Piccola di V Volentieri Con le partite Iva No c'è Ivan Che dovrebbe entrare Le partite Ivan Allora vediamo un attimo No prego Prego I ristoranti Insomma I lavoratori Che si trovano in difficoltà Chi ha le palle di lavorare Quindi Risito Il mio amico Momi Tito Varacca Firenze Grande Momi Sì davvero Alle palle di fare le cose Mi ha Ha tirato la mia attenzione Dalla televisione Una cosa che non succede mai Un ragazzo che avverbe E quando la Toscana È entrata in zona giolla Per caso era a Firenze Con la domenica Il ristorante Ha fatto tre turni C'è una cosa pazzesca Cioè era pienissimo Secondo te Il governo come dovrebbe agire In questo momento Per quanto riguarda Il discorso coronavirus Ma io vado contro C'è il governo italiano In Europa È quello che alla fine È più permissivo Rispetto agli altri Lo vedo Dalla Francia Il terra Spagna Cermone Alla fine Noi veramente Questo capodanno Lo faremo nella bambagia In realtà Secondo le disposizioni No però La grande bellezza La grande bellezza Che ne pensi Di quel film A livello cinematografico Penso che Mi dispiace Che non ha vinto l'Oscar La prima cosa bella Erano insieme Candidati Come migliori film stranieri La grande bellezza Io mi sono addormentata Non l'ho più rivisto tutto Mi trovo una cartolina pessima La Roma decadente Comunque anche veritiera In determinati punti Io mi sento molto vicina Al protagonista Però anche Come ha visto Certe parti Di questi ultimi anni Guarda su questo Siamo d'accordo Forse è l'unica cosa Wow Io non l'ho mai visto Qual è il tuo film preferito? Allora Mi piacciono un sacco I film storici Tipo The Man in the Iron Mask L'Uomo della Maschera di Ferro Poi Mi piace American Beauty Direi Tantissimo Eyes Wide Shut Di Kubrick Top capolavoro Comunque Recentemente Mi pare non fosse candidato La prima cosa bella In quell'edizione degli Oscar No candidato all'Oscar Negli ultimi anni Mi hanno sorpreso Molto da Joker Forse intendi Nella preselezione Cioè i film italiani Che sono stati mandati No invece Arrivò all'Oscar Ok Forse sbaglio io Posso mettere quasi la mano Sul foco Vediamo Ivan Ciao Ciao Simo Ciao Simo Quindi i progetti futuri Oltre quelli che hai detto Qual è la tua aspirazione Cioè tu dove vuoi arrivare Qual è l'obiettivo Che ti sei messa in testa Da qua per i prossimi anni Sto capendo Perché da piccola Volevo fare l'attrice E poi a un certo punto Mi vedevo in politica Ho fatto tutto Conoscere Berlusconi Ho fatto tutto Poi volevo vivere Una campagna inglese o francese Mi è capitato anche quello Ora sto cercando Di capire un po' Cosa voglio fare da grande E penso di voler rimanere In quest'ambito Comunque per dovere di cronaca È di tre anni prima La prima cosa bella Rispetto alla grande bellezza No nel 2010 Stesso anno No nel 2013 La grande bellezza Appena controllata No vabbè così Non è che è una cosa grave È un'informazione Ah vabbè Per dovere di cronaca Ah vabbè capirai Guarda Tra tutti quelli che hai detto Stasera Stasera proprio Andavo un attimo In buffering Sì vabbè Comunque A tempi La prima cosa bella Era candidata all'Oscar Non l'ha preso Ma l'ha preso La grande bellezza Qualche anno dopo Posso sbagliarmi Ma sì Certo Ma ci mancherebbe Questa è una cosa Così insomma Secondo me La parola d'ordine È una sola Trolling Ah A me non mi toglie niente Dalla testa nessuna Sì Sì Eh lo so Però purtroppo Non riesco a capacitarmi Capito Perché Ti sento Dalle tue parole Che sono ragazza Perché magari va fuori Dai tuoi schemi Però molte due cose Vanno proprio in contraddizione Con tale Intelligenza Questo qua Penso io Qual è il prototipo Del tuo uomo ideale Non so Non penso che ci sia un'età L'età Valore anagrafico Si vive dall'alba Al tremondo Quindi se ci incontriamo In questo momento Vuol dire che Ci può essere Qualsiasi cosa Qualsiasi All'età Ho detto Una persona ambiziosa Molto intelligente Spirituale Sempre un fondo Di spiritualità Positiva Ottimista Non grassa Possibilmente Sul fisico invece Parliamo dell'aspetto fisico Non è detto In realtà Etnia Aspetto fisico C'è qualcosa Che ne so Etnia Ha una passione In effetti smuodata Quasi un car Un'attrazione fatale Un altro film Di miei preferiti Come anche Basic Instinct Il Medio Oriente Il fascino Medio Orientale Mi colpisce Parecchio Anche una canzone Il fascino Medio Orientale Ma a proposito Ma invece Spiegami un po' Questa cosa Della spiritualità Che mi interessa Cosa intendi Per spiritualità Beh io Sono molto curiosa Mi capitò Quando avevo Nel 2014 Avvicinato Il buddismo Poi mi rischiai Di saltare Una sessione Di esami Una sessione Di tesi Insomma Poi avevo Dei preconcetti Diciamo Sull'ebraismo Sull'ebraio Su Israele E mi è capitato Di mettermi insieme Di convivere Con una persona Che aveva un sacco Di amici In Israele Mi portò in Israele E rimasi Fulgorata In Israele Quindi Dal 2015 A questa parte Ho iniziato Una sorta di percorso Che mi ha avvicinato Sempre di più All'ebraismo Che cazzo è Sto deficiente Mi stavo Convertendo Sono stata 3-4 volte In Israele Mi stavo Convertendo Poi invece Andavo sulla conversione Perché In principio Non c'è nessuno E in Odmilvadoce Solo lui E di sopra di noi Quindi non penso Che debba passare La mia spiritualità Da qualcuno Però insomma Mi sento molto Giulaico cristiano Ho riscoperto La Bibbia L'Antico testamento L'eroina Dell'Antico testamento Infatti ne parlo Anche sul libro Cioè Da tutta Adamo Eva Tutto fa capire La complementarità Dell'uomo e della donna Abramo Sara Vabbè Ok Rebecca Perfetto Sono tutti questi esempi Di contestamento Poi c'è Esther Che salva il popolo ebraico Veramente Si vede di tutto Nella Bibbia Cosa ti è piaciuto Di Israele Le cose che ti hanno Più colpito Non lo so È spiegabile questo Cioè Succede Delle persone Che toccano il muro Del pianto E improvvisamente Hanno una sorta Riconversione Una cosa strana Comunque È Un Giardino nel deserto Il giorno Sai che c'hai Il Libano La Siria Giordania L'Egitto Sei circondato Da queste forze Negative Ostili E tu sei In questa striscia Di terra Minuscola È più piccolo Della Toscana Israele Ed è potentissimo E questo Ti fa riflettere Perché l'hanno Tirato su Dal 48 Stavo cercando Ivan Grieco Non ho capito Perché dicono Stai in domande Abbonate Abbonati Ma lui te l'ha scritto? Guarda No non l'ho scritto in chat Non so se sia vero Se devo sentire No perché Ivan È un ragazzo Che Prego prego Ah non entra Non entra C'è Ivan Che ha detto No non entrerò In poche parole Ci sta Ci sta Tanto leggo No vabbè Dice che Non si tira mai indietro Però questa volta Lo farà Ci sta Ci sta Vabbè scelta sua Grazie Io sono rimasto Diciamo Un po' Spiazzato Perché veramente Non riesco A leggere Negli occhi La nostra Spera 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 Due secondi Due secondi Stiamo Stiamo parlando Non si preoccupi Siamo solo in live Sì sì Ma che cazzo C'è frega Tanto Prego Prego Mettiamola così Mettiamola così Per concludere la live Un gioco che non facciamo Da molto tempo La bombi o la passi No L'ospite Che fa Delle domande A noi Se le ha È meglio Bombi o la passi Devo dire Penso che è stata Messa in difficoltà Per un'ora Questa qua Penso sia la cosa Vabbè ma qualsiasi domanda Non vorrei dire Senza problemi Potrei che Di tutto Da dove venite A giro Partiamo da Gianluca Domanda secca Perché sei qua Cioè come hai iniziato Ho iniziato Fingendomi un'altra persona E poi si è messa la maschera Ho iniziato fingendomi Un'altra persona Così per trolling Comunque Già avevo un mio canale Che però Era stato buttato giù Per motivi abbastanza validi Perché comunque Era proprio una cosa Flame Fina a se stessa Ed infatti È da là Che è nato il nome Stavano facendo questa live Dall'Uk436 Che è uno youtuber E ci stavano dei salotti Con delle persone Abbastanza Indiscutibili Come Rubino Esatto Come Simone Santoro No io ho iniziato prima Come Mr. Hyde E tanti altri Io entrai In quella live Ce sono cascati E poi da lì Sono andato simpatico a tutti Quindi sto diventando Ce sono cascati In die cazzate C'è cascato C'è Ma qua chi è di Roma Roma E poi da lì A differenza A differenza di altri Poi da lì Mi sono Fatto da me Comunque Avevo il mio canale Sono stato rinvitato Per mesi Durante quelle live Addirittura anche Dio che è venuto Sul canale mio Insomma Sono andate varie Amicizie E da lì Ho iniziato A farmi valere Con quello Che mi piaceva fare Cioè video Di flame Però puramente Comici Con lo scopo Di far ridere E poi due anni Io Davide E Simone Abbiamo creato Questo canale Twitch Che è partito Diciamo Riassunto io A grandi linee Perché è incredibile Questa L'opportunità Che si è aperta Non me l'aspettavo Ma diciamo Che è un'opportunità Che ci è stata donata In quanto Maschi bianchi etero Questo lo voglio dire No 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 Sono serio Oh my god No sono serio È vero Non era un battuto Perché non l'hanno presa Quegli altri allora Ora però vi faccio parlare No Perché siamo i più bravi Tra i maschi bianchi etero È vero Siamo i più bravi Evidentemente Però vedi se sei razzista Perché non parli Se sei razzista Chi ti ha parlato Di maschi bianchi etero No l'ho detto io Gente di colore L'ho detto io Vedi È razzista 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 Sono d'accordo Perché è fascista Già c'erano state delle tesi Se è anche razzista Verrà cacciato via dal zio Verrà sostituito con Rubino Che cosa dobbiamo fare Marra No purtroppo Purtroppo devo dire Che Alessandra Ha scoperto la mia vera natura Ho questa verità Però vai Adesso domanda a Rubino Poi mi fai una domanda a me Come iniziato io È meglio che non lo dico Un'altra domanda Un'altra domanda Un'altra domanda Posso dirlo io Io mi sono finto un altro Lui ha bevuto Acqua del cesto Io ho leccato tu zinne Cioè io ci terrei Alle mie cose Ci terrei alle mie cose Prima ho leccato le zinne E poi ho bevuto l'acqua Ci terrei Beh oddio Mi sarà meglio il contrario Come avevo detto io Mazzazzo ho leccato le zinne 300.000 views Il primo video Lo esageriamo Lo vedi Rubino Oltre il piacere Anche il guadagno Rubino È una donna Si scoprì come è una donna Io Oltre il piacere Il guadagno Ah ho capito la battuta Che sì Parito Parito Vabbè Stavo sperando il capri fuoco E mi sa che chi deve venire a prendere Vabbè ma penso ti possa accompagnare David Rubino Io Ho un alai Eh vabbè La puoi accompagnare Se no chiamiamo un Uber Ti chiamiamo un Uber Stia attenta Perché Rubino È anche soprannominato Weinstein No no Ma c'è pure Ludovica in diretta Ma sei proprio lo strombo No ma sto scherzando Perché non si capisce Che è una battuta No ma Ti paghiamo Ti paghiamo un autista Un Uber Un Uber Senza problemi Poi ci dici l'indirizzo Te lo chiamo No vabbè Se devo solo tanto dire Per me non ancora penso di rientrare Sì no Prego prego Faccia poi Attendiamo la domanda a Rubino No ma Non lo so Una domanda a David Rubino E poi una domanda al sottoscritto Qualsiasi tipo Cioè se tu uscissi domani con Rubino Cosa gli chiederesti No ma uscire Mi avevo detto niente Ah ok Un normale Un caffè è una cosa Perché non si metta a dieta Esclusa Cosa mangi Come ti piace mangiare Perché da come mangi Ti dirò chi sei Ma io sinceramente non mangio nemmeno tanto Io sono fatto matto per la Rubino se mangia la merda Ah sì ma adesso è un porco Vai al sushi Te mangi tutto Mammo Dici a me Ti mangierei il quintuplo da roba mia Rubino se mangia la merda Ma questo qua Ma vaffanculo Questo non rende una persona di merda Ma questo vale anche per me No no Ma vale anche per me Gianluca ha detto Mr. Flame Non lo fate venire al sushi Perché si mangia anche il tavolo E soprattutto Non lanciatelo il sushi Non lanciatelo soprattutto il sushi Rubì rispondi però Che ho detto Ah ok ok Cosa mi piace mangiare Allora non mangio tanto Però mangio male Quindi tipo pizza La pasta di sera no Perché mi dà fastidio Ma se ripropone La pizza La pizza purtroppo Capito Magari mangio di sera Quel paninetto Che ti dà fastidio Che la sera non bisogna mangiare È casino signori È casino È la pizza Però io ho domato La pizza E il succo La crocchetta Alessandro Una domanda per me Quindi che me mangi Perfetto Mi viene da dire Com'è diventare padre Di questi tanti No no Dai però No Dai Scusate È bella come domanda Molto molto No no È la monster Profonda Sì sì A me come domanda Com'è diventare padre Di questi tempi In che senso di questi tempi Spiegamela meglio Che interessante Dove Non so Ci dovrebbe essere pessimismo Del mettere al mondo Un'altra creatura Io sono molto arrabbiata Perché ci sono un sacco di bambini Che potrebbero essere adottati Che non vengono adottati adesso E vorrei adottare Guarda io dico Io sono sempre stato Una persona molto cinica Non pessimista Però L'idea di avere un figlio Era molto distante da me L'ho sempre messa come ipotesi Abbastanza Complessa Cioè nel senso Era una cosa che Difficilmente vedevo Nel mio futuro Però ho sempre detto Non si sa mai Nella vita No Devo dire che Ho conosciuto Una ragazza Alex Che mi ha fatto Non tanto cambiare idea Perché in realtà Sono rimasto Più o meno Delle stesse idee Però mi ha dato Una sicurezza Molte sicurezze anzi E quindi Abbiamo Tranquillamente Deciso di Provare questo percorso Insieme E sono felicissimo Soprattutto Mi ha fatto molto piacere Mi ha scaldato il cuore Vedere Anche Lo sguardo Dei miei genitori Quando ho detto Questa cosa Perché loro Escludevano Questa possibilità Conoscendomi Io ho due fratelli Tra l'altro E quindi Mia madre mi ha detto Sei l'unico Su cui non avrei puntato E niente Quindi sono molto Soddisfatto Sono molto soddisfatto Di questa Sono molto soddisfatto Di questa scelta E ovviamente Sarà un qualcosa Di complesso Però Non ho paura Penso anche Che ci sia Un istinto Che ci aiuti In determinate cose È come la prima volta In cui fai l'amore La prima volta In cui fai determinate cose Che sembrano assurde Però ti rendi conto Che sono insite Nella tua natura Ma poi è una cosa voluta Il problema è che Capitano E poi Si trovano famiglie Allo sfacciarle Invece lo devi volere Certo Grazie 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 Beh io direi Che possiamo concludere Con questa Nota positiva Sì è bellissima Davvero La nota positiva Che ho dato Proprio della complementarità Uomo Don Di Marra Che ha trovato La sua soulmate Che si assumono Le responsabilità È bello Certo Io mangio la pizza A proposito Rubino Rubino ha portato la pizza Su Pli Crocchette Esatto Adesso ci andiamo a Ricocillare Grazie mille per avervi Grazie mille Grazie Grazie Rubino Grazie alla nostra ospite E ci vediamo Domani alle ore 21 Attenzione Perché faremo una maratona Dalle 9 a mezzanotte Quindi domani Non c'è la live delle 15 Ma c'è una live Ma questa è una notizia Terribile Me l'ero scordato No vabbè scherzo Pensatemi Io non ci sarò Pensatemi Che sarò Scherzo Naturalmente Domani Capodanno Col Cerbero Podcast Domani Avete capito No cazzo Piano piano Gianlu Gianlu Ma compriamo Qualche bottiglia Compriamo Qualche bottiglia Di champagne Ma chi è caro Andiamo Ti è una festa Se vorrei Adesso Ma che è caro Ma che è caro Un tato No Rubino Stavo per parlare Scusa Scusa Ma lo sono sentito qua Massa Che cazzo c'è Ultrasuoni Stavo per parlare Ma è scappato Ma sei la bestia Però è meglio L'uomo bestia Che l'uomo Vabbè Bannati Grazie mille Per aver visto Questa live E ci vediamo domani Alle 21 Stavo dicendo Domani compreremo Un po' di champagne Per passare Quattro ore di tempo Sì Sì Sicuramente Dove cazzo sta Dove è il mouse Stacca Stacca Non mi sento molto bene Non mi taglierò le vene Mi serve una trasmissione Da vedere In punto di morte Sono a casa Rana 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 Cerbero Popopopodcast No dubbi vuole estinguersi Tre teste per un cerbero Cerbero Popopopopodcast Troppi goblin in questo mondo Non sarò un cloche Rai da Ricco Rai da Ricco Non debbe Perché Ogni giorno Guardo Cerbero Popopopodcast Cerbero Popopopodcast Marranichi Risceide Be Dei mur La 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 Cerbero